ciao a tutti sono mattel colano grazie mille per questo invito che mi onora degli alumni around the world vi invio questo messaggio da montreal in quebec in canada perché dove mia voglia e io viviamo non si può avere far venire al mondo una bimba perché viviamo in un villaggio di inuit remoto non raggiunto da strade non raggiunto da cavi dove nel momento in cui c'è bisogno di un ospedale dei dottore si deve salire in un aereo e si accompagnati da un infermiere essere avviotrasportati qui a montra ho studiato ingegneria delle telecomunicazioni facoltà ovviamente di di padova e per me l'università di padova è è stato è elevazione cambiamento miglioramento è è un qualcosa che mi permette o mi ha permesso comunque di fare ciò quello che sto quello che sto facendo in italia quello che ho fatto in california quello che sto facendo qui in canada che mi permette forse anche di capire un po di più perché il mondo è andato in questa direzione perché posso registrare questo video con una webcam e mandarlo in un formato digitale dall'altra parte del pianeta di 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 avere più strumenti di di comprensione per me l'università è è stata veramente motivo di orgoglio ho fatto esperienze professionali in italia grazie all'università di padova il titolo di studio le competenze tuttora oggi lavoro per contribuire al rinnovamento e miglioramento delle reti di telecomunicazione di questi villaggi di inuit che ovviamente sono collegati solo via satelliti non c'è un cavo non c'è una fibra ottima non c'è nulla che può raggiungere e siamo nel 2021 e dobbiamo avere a a fare con banda ridottissima latency elevata e cercare di metterci sopra degli apparati che possono in qualche modo far sì che poi applicazioni normalissime come quelle che sono nel resto voglio dire del del continente possono in qualche modo funzionare in maniera fluida ma allo stesso tempo e sempre grazie a ciò che ho fatto l'università di padova collaboro per una start up californiana fondata da un imprenditore italiano ma finanziata da un investitore californiano è una software company quindi lì facciamo faccio devops e ritengo insomma che tutto quello che sia stato in grado di fare nella mia carriera professionale sia fondamentalmente grazie a ciò che ho imparato e grazie ai professori che c'erano e che ci sono e che spero ci saranno per altri 800 anni in un'università come l'università di padova per me miglioramento elevazione cambiamento grazie di nuovo e un saluto dal quebec dal nord del quebec da Cujua che da un villaggio remoto di Nuit grazie 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 grazie